Con Michael Lyons eschete primo sul temibile Verdon Roe McLaren e poi sotto il diluvio con la Lola appena sistemata Mauro Pane. Incredibile, durissima, difficilissima, si è messo a piovere ancora a metà, ma quando si è asciugata andava benissimo, poi si è messa a ripiovere, peggiorata, però peggiorava anche per gli altri, ho tenuto duro, 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 ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Quando ho avuto un momento di eccitazione? No, niente, sempre giù, giù, tirare, tirare, questo è il mio obiettivo principale, mai mollare, mai. Sei stato molto tattico anche, sì, esattamente, tattico, cercavo di non perdere molto di vista la pista, le condizioni e tutto, per vedere di migliorare il più possibile. Grazie, grazie ancora. E poi sotto il diluvio con la Lola appena sistemata Mauro Pane. Incredibile, durissima, difficilissima, si è messo a piovere ancora a metà, ma quando si è asciugata andava benissimo, poi si è messa a ripiovere, peggiorata, però peggiorava anche per gli altri, ho tenuto duro, 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 ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Quando ho avuto un momento di eccitazione? No, niente, sempre giù, giù, tirare, tirare, questo è il mio obiettivo principale, mai mollare, mai. Sei stato molto tattico anche, sì, esattamente, tattico, cercavo di non perdere molto di vista la pista, le condizioni e tutto, per vedere di migliorare il più possibile. Grazie, grazie ancora. Grazie a tutti.